buongiorno buongiorno debora ferrari qui a ciao como con noi in diretta on air anche su facebook quindi la potete vedere in tutta la sua bellezza anche sulla nostra pagina buongiorno debora come stai buongiorno ciao como bene grazie effettivamente il lupo sta da un'altra parte infatti si è fatto traviar via da shakira secondo me e anche gli stavo andando dietro mi stava fregando fa niente fa niente però dai insomma è sempre è sempre un animale molto molto affascinante allora debora qui a ciao como sei nostra ospite graditissima ma c'è anche l'occasione di parlare di una bella iniziativa che stai portando avanti ce ne vuoi dire di più con molto piacere grazie perché stiamo parlando proprio di una collaborazione tra due laghi il lago maggiore lago di como che è iniziata qualche anno fa che sta andando avanti proprio sul tema dell'arte della cultura e abbiamo aperto a varese in una sala bellissima dei musei civici perché musei civici di varese sono un po sparsi sul territorio e nella città è una si chiama sala veratti affrescata con delle botteghe famosissime del nostro barocco nel nostro barocco prealpino dal magatti dal baroffio e felini è proprio la mostra a cui accennato felini di samuele arcangeli un artista varesino molto particolare perché ha avuto un'infanzia in africa dove fin da bambino è rimasto affascinato ovviamente dalla varietà dalla quantità di animali che avevano intorno a loro nella vita quotidiana e quindi anche dagli animali della savana samuele da sempre ha portato avanti questo discorso pittorico quindi facendo ritratti di grandi felini e di piccoli felini e con una caratteristica la caratteristica di non riprenderli come siamo abituati gli animali così un po alla disney un po alla pop oppure completamente trasformati per farne quasi umanizzati da vedamento lui punta a questi animali come delle entità umane quindi ce li ritrae con uno sguardo che è proprio lo specchio della nostra stessa umanità infatti ci piace dire felini e altri umani quando parliamo dei quadri di samuele perché lo scopo è indagare questa essenza indagare l'anima e vedere questi occhi che siano quelli del nostro gatto domestico quelli di una pantera di un giaguaro di una tigre di un leone che ci tirano fuori qualcosa della nostra personalità sicuramente trasmettono la vicinanza al mondo animale nel quale l'uomo si deve poi inserire in modo armonioso se non pari quindi per far capire anche questo questa vicinanza questa vicinanza tra l'uomo tecnico se io posso far vedere qualcuna delle immagini di samuele arcangeli così almeno intanto che parlate le faccio vedere se riesco è perché io ho bisogno di un supporto tecnico in questo caso sarebbe perfetto vediamo perché parliamo di gatti ma parliamo proprio anche di leoni e pantere quindi se riesce a farli vedere capiamo capiamo bene come vengono ritratti e proposti con l'occhio di samuele e come facciamo noi a vedere questa mostra in questo periodo di zona rossa allora ci siamo attrezzati con il fotografo Gianmarco taglietti che anche il fotografo delle immagini che abbiamo sulla placchette da collezione che abbiamo realizzato e con lui abbiamo fatto delle registrazioni col drone all'interno della sala che quindi mandiamo sui social nel nostro gruppo di musea tra rari tipi è possibile accedere e seguire la mostra in diretta con interviste fatte con l'artista i partner gli sponsor con noi curatori insieme a me anche luca traini abbiamo fatto un approfondimento proprio dell'opera di samuele l'autore stesso e quindi seguendoci sul gruppo riuscite a recuperare le immagini della mostra dentro questo contesto barocco e anche sentire dalle voci direttamente cosa cosa accade nella formazione del quadro perché samuele poi ha una tecnica tutta particolare per realizzarli e sì questa tecnica particolare ci permetterà anche attraverso la tecnologia di essere vista vis a vis voi avete una data di chiusura di finissaggio come dicono gli addetti ai lavori molto prossima c'è la possibilità di una proroga prossima a futura o una ripresa della mostra oppure è possibile vederla soltanto online per ora confidiamo che sia possibile vederla anche in presenza perché infatti l'abbiamo aperta che stavamo passando dal giallo all'arancione abbiamo ricevuto un sacco di prenotazioni perché contingentato quindi pensiamo di poterla prorogare la chiusura sarebbe il 28 quindi noi prevediamo anche di fare una diretta facebook in nell'ultimo weekend in ogni caso e speriamo di poter aprire al pubblico dopo pasqua in modo tale da non disallestirla subito ma poter accogliere anche le persone in presenza per per vedere queste tavole di legno graffiate riempite di pigmenti e poi scavate spogliate perché esca davvero l'anima di questi di questi felini e poi perché con banca generali private che il nostro partner su che supporta la cultura in questo difficile momento abbiamo avviato proprio questa questa linea quella di creare le pubblicazioni quindi un altro modo per godere della mostra è quella di recuperare le placchette da collezione che abbiamo realizzato con la nostra casa editrice proprio per documentare sia l'attività di samuele che la lettura di questo spaccato particolare della sua arte benissimo benissimo e avete altre attività in cantiere debora con la tua associazione ci puoi svelare si stiamo facendo numerosi libri fra l'altro abbiamo appena pubblicato anche il libro di un autore comasco che adesso vive in canton ticino franco ronconi poi abbiamo delle attività che riguardano arte nuove tecnologie perché ci occupiamo anche di degli artisti digitalisti italiani e quindi ci piace portare avanti tutto questo con forza la valorizzazione proprio dell'identità dell'artista ecco perché anche con samuel arcangeli abbiamo puntato a non lasciar perdere nonostante il periodo difficile allestire la mostra e tenerla viva anche attraverso il web e i social perché dobbiamo sostenerla questa cultura dobbiamo sostenere chi la fa e allora diventa importantissimo avere uno spazio come quello che ci state offrendo voi in questo momento per condividere quindi andiamo sulla pagina ma c'è anche la pagina della mostra dedicata o attraverso invece quella della vostra associazione debora abbiamo tenuto il gruppo dell'associazione poi l'account di samuel arcangeli ok li sono i due riferimenti principali perché abbiamo preferito condensare lì e non sparpagliare troppo le informazioni per agevolare il pubblico quindi ricordiamolo a tutti gli ascoltatori di ciò come collegatevi su facebook e sulla pagina appunto dell'artista samuel arcangeli e sulla pagina della del gruppo dell'associazione di debora ferrari in modo tale da poter ammirare questa questa mostra sta avendo un buon riscontro anche via web stiamo avendo un buon riscontro via web e tantissimi follower che che ci scrivono per prenotarsi per entrare benissimo mettersi in lista e soprattutto una gran bella condivisione dell'evento e quindi di tutti questi video e foto che pubblichiamo proprio attraverso le persone che in questo momento non possono varcare la soglia reale ma ci aiutano proprio nella condivisione di quest'arte va bene va bene qui mi prendono un po in giro perché dalla regia mi hanno rubato il posto e mentre noi chiacchieriamo gli altri mi prendono in giro guarda debora la cultura è veramente un modo difficile il tuo ma anche il mio che non faccio cultura sto facendo un po di un po di stretching mentre mi hanno rubato il posto pensa a te va bene va bene dai cerchiamo di portare comunque un po di buon umore e bellissima questa iniziativa che come raccontavi tu crea un po un connubio tra i laghi e come tra i laghi c'è sempre anche lo lancio anche qui il come si dice il concorso il premio letterario scritture di lago che so averti tra il comitato di lettura in cui poi saranno protagonisti proprio i laghi lombardi e prealpini e della svizzera italiana giusto un bellissimo premio che veramente merita un encomio perché l'altro aspetto difficile che va continuamente sostenuto è quello della scrittura della scrittura perché è una tecnologia anche la scrittura quindi è fondamentale testo questa diffusione e soprattutto questo collegamento territoriale perché lo sappiamo viviamo in una delle zone più belle assolutamente la nostra è un po più bella comunque va e fa niente ma non abbiamo i felini siamo tutti gente di lago non abbiamo i felini non abbiamo i felini ma ce la caviamo lo stesso e quindi chiunque voglia mandare a debora e ai suoi colleghi del comitato di lettura di scritture di lago il proprio racconto ambientato sui laghi prealpini vada sul sito di scritture di lago www.scritturedilago.it o seguo i social dell'iniziativa per capire come poter partecipare debora aspetta e tutto il resto del comitato aspetta i vostri iscritti va bene è bella questa mostra comunque veramente poi qui anticamente vivevano dei felini di grosse dimensioni è vero c'era il leone non lo so guarda che il leone c'era l'area di palafitte siamo area di palafitte avevamo veramente una fauna ricchissima gatti selvatici ne abbiamo anche adesso gatte soprattutto vecchi gattacci direi gatti selvatici e vecchi gattacci giustamente ogni riferimento a persone di questo studio oppure veramente casuale se prima abbiamo sbagliato se abbiamo sbagliato prima animale nell'entrata di questa nostra chiacchierata l'uscita però la zecco perché venuto in mente un vecchio film che si chiama il bacio della pantera non so se te lo ricordi no bellissimo ma scherziamo è uno proprio dei film cardine e allora faccio vedere questo ritratto di samuele con questa pantera gigantesca così vi rendete conto anche della dimensione dei quadri rispetto all'uomo e capi che bella veramente importante quella lì è proprio la natasha kinski natasha kinski quando si trasforma in pantera giustamente la faccia quando quando è umana grazie debora presto un grosso bocca al lupo ciao ciao ciao